A che tipo di intelligenza artificiale pensa che deve essere vietata? È un'intelligenza artificiale che possa violare i vostri diritti, i vostri diritti come persone, come ragazzi. Ci sono due tipi di intelligenza artificiale, immaginatevi un tipo di intelligenza artificiale che è innocua, quella dentro i videogiochi ad esempio, non so se lo sapete ma i videogiochi moderni hanno all'interno un'intelligenza artificiale che si adatta alle vostre capacità di giocatori e quindi impara da voi e rende l'esperienza adatta a voi. Oppure avete presente quei bot, quelle finestrine quando vi collegate di notte a un sito di e-commerce vi appare una finestrina con scritto ciao sono Mario, ti posso aiutare nel percorso di shopping? Non è Mario, è un'intelligenza artificiale che dialoga con voi. Quelle creano pochi problemi, l'importante è che si sappia che ci sono quelle intelligenze artificiali. Invece ci sono delle intelligenze artificiali che sono vietate. Allora il primo tipo di intelligenza artificiale vietata richiama serie televisive tipo Black Mirror dove l'intelligenza artificiale può ad esempio convincervi a tenere dei comportamenti che voi non vorreste tenere. Questo viene detto in termini psicologici, scusate il termine, sono tecniche subliminali si chiamano, sublimine cioè passano attraverso il vostro cervello e l'intelligenza artificiale vi convince a tenere comportamenti che sono per voi dannosi o pericolosi. Immaginatevi un giocattolo per un bambino basato sull'intelligenza artificiale che dà dei consigli a quel bambino che sono dannosi per lui. Quindi una bambola con l'intelligenza artificiale che dialoga col bambino, a un certo punto il bambino fa o caldo e la bambola dice perché non vai sulla finestra, apri la finestra, ti metti sul cornicione e lì prendi fresco. Il bambino va sul cornicione e cade giù. Quella è un'intelligenza artificiale che aggira la vostra volontà e vi orienta il comportamento in maniera subdola insomma. Negli Stati Uniti ci fu un caso politico molto importante che si chiama Cambridge Analytica, ne avrete sentito parlare. Era un caso dove si usava l'intelligenza artificiale per orientare il vostro voto, quindi vi convinceva a votare per un certo partito mandandovi informazioni precise sui social, banner pubblicitario o altro. Ecco, questo primo tipo di intelligenza artificiale che vi inganna sarà vietata. Poi abbiamo un secondo tipo di intelligenza artificiale che è quello che replica il sistema cinese di cittadinanza a punti o di social card si chiama. C'è un episodio di Black Mirror che si chiama Caduta Libera, una serie televisiva, Black Mirror. Caduta Libera c'è una ragazza che esce di casa alla mattina e vive in una società dove voi siete giudicati per i punti che avete. Lei esce di casa alla mattina e ha mille punti. Poi che cosa fa? Va in macchina, rischia di investire una vecchietta sulle strisce, automaticamente le tolgono 500 punti e rimane con 500. Poi va al lavoro, litiga col capo, la società gli toglie 200 punti. Poi non lascia la mancia a un cameriere, gliene toglie 50. Lei arriva alla sera che da mille punti che aveva ne ha meno 200. E cosa succede? Che la società che è attorno si ribella a lei, non può più entrare in casa, non può più accedere alla macchina, è costretta a dormire fuori casa. Questo è un sistema che si chiama di cittadinanza punti, che in Cina è già operativo da tempo. Vi danno una carta, voi potete guadagnare punti o perdere punti. Tipo se non andate a trovare i parenti anziani nel fine settimana e per molto tempo, perdete dei punti. Se andate a donare il sangue, vincete dei punti. Se parlate bene del governo in rete, vi danno dei punti. Se fate circolare delle fake news, ve li tolgono. Se un professore viene da Milano a farvi una conferenza e voi parlate con i vostri amici o non seguite, vi tolgono dei punti. Alla fine viene condizionato, viene condizionata la vostra vita. Questa intelligenza artificiale sarà vietata. In Cina sapete come fanno a creare un sistema di controllo così importante? Con l'unione di intelligenza artificiale e riconoscimento facciale. Ossia individuano tutti i soggetti dai tratti somatici, si chiama biometria. Quindi sarà vietata l'intelligenza artificiale che cerca di ingannarvi. Sarà vietata l'intelligenza artificiale che vi dà dei punti in società per darvi o togliervi dei diritti. Poi, secondo voi l'intelligenza artificiale che riconosce le vostre emozioni sarà vietata o sarà permessa? Cioè ci sono sistemi di intelligenza artificiale che guardano il vostro viso. Quindi immaginatevi un'intelligenza artificiale che guarda il viso dei vostri due colleghi qui in seconda fila e riconosce dieci parametri. Cioè riconosce se sono contenti, se stanno dicendo che palle questa lezione di diritto alle dieci del mattino, se stanno sorridendo, se hanno paura, se hanno paura di essere interrogati. Quindi immaginatevi un'intelligenza artificiale che guadagna 15, cioè vede 15 parametri del vostro stato d'animo. Semplicemente analizzando la voce e il viso. Allora, voi sapete che questa intelligenza artificiale è comunemente utilizzata dai siti di commercio elettronico, da Amazon, dai social. Ecco, questa è un'intelligenza artificiale che sarà vietata soltanto in due ambiti della nostra società. Vediamo se qualcuno o qualcuno di voi indovina i due ambiti in cui sarà vietata. Dov'è che sarà vietato riconoscere le emozioni di una persona, secondo voi? No, nei social sarà permesso perché tutta l'attività di profilazione e di invio di materiale personalizzato per voi si basa sul vostro viso. Sapete che i social riconoscono anche il viso di un animale? Se voi pubblicate, che ne so, un labrador, il sistema dice che è un labrador, è un cucciolo, quindi riconosce l'età e vi può mandare del materiale personalizzato, i croccantini per cuccioli, ad esempio. Prego. No. Dov'è che controllare le vostre emozioni vi può limitare tantissimo? In quali ambiti, secondo voi? Chi è? Ah, no, ho visto il perre che alza la mano, dico. Ascoltate, il primo è questo. Saranno vietati i sistemi di riconoscimento delle emozioni in ambito scolastico o dell'istruzione per vedere l'emozione degli studenti e anche degli insegnanti. Se ci pensate è giusto. Immaginatevi, se io adesso avessi un'intelligenza artificiale, voi siete in 250-200, che prende ognuno dei vostri visi e mi dà i vostri parametri emozionali. Quindi scopro che lui fa finta di seguire, in ipotesi, vedo che sta seguendo bene, però fa finta di seguire ma intanto sta pensando alla fidanzata. Lui, dall'espressione del viso, magari un po' tirata, è qui che dice speriamo che finisca presto questa lezione. Lui invece che è sorridente ed è emozionante, capite che in ambito scolastico per un insegnante sarebbe molto comodo. Ma lo stesso per gli studenti, che prendono il viso dell'insegnante e il vostro sistema vi dice Ah, guarda, è lì a fare lezione ma gli piacerebbe tantissimo essere un sabato in una spiaggia a nuotare. Quindi, primo ambito dove sarà vietato è l'istruzione. Il secondo? Dai che facile. Prego. Nell'ambito lavorativo. Nell'ambito lavorativo dove il datore di lavoro potrebbe controllare le emozioni del dipendente. Adesso, prima di passare la parola al professor Perry che vi darà notizie un po' più buone, vi dico altri due ambiti di intelligenza artificiale che sarà vietata. Il primo sarà quello dello scraping di immagini da internet dei volti delle persone. Ci sono delle società, non so se lo sapete, che vanno a cercare i visi delle persone, cioè i vostri visi, per immagazzinarli in una banca dati. Perché poi la passano alle forze dell'ordine. Così, se in una telecamera, ad esempio, ci siete voi che state uscendo da scuola ed è successo un furto in quel momento, il database immediatamente unisce il vostro viso a un altro viso, fa il matching, si dice, e li identifica. Ecco, saranno vietate le intelligenze artificiali che, come posso dirvi, che raccolgono in maniera indiscriminata, si chiama raccolta strascico, i visi. E poi ne abbiamo un'altra, l'ultima, molto interessante. Vi ricordate quando ci furono le proteste a Hong Kong degli studenti? Gli studenti andarono a Hong Kong per protestare contro il governo cinese. Le forze dell'ordine avevano messo delle telecamere che in tempo reale, da remoto, identificavano chi era andato a protestare. Per cui gli studenti si erano messi delle maschere, ad esempio, oppure usavano dei puntatori laser per cercare di ingannare i sistemi di riconoscimento. Ecco, saranno vietati gli strumenti che permettono di identificarvi da remoto, in tempo reale, su spazi aperti. Quando voi girate, ad esempio, per strada. Il problema è che questi strumenti saranno consentiti soltanto alle forze dell'ordine per determinati tipi di reati. Quindi non sarà completamente vietato. Quindi, quest'estate, il legislatore europeo decide di disegnare una piramide del rischio, la chiama, che è quella che vedete su schermo. Che cos'è una piramide del rischio? Mette i sistemi di intelligenza artificiale in una piramide a seconda del loro rischio, per voi. Avremo quelli vietati, avremo quelli utili in società, di cui vi parlerà Pierluigi adesso, che si chiamano ad alto rischio, ma anche se sono ad alto rischio sono essenziali per la nostra società, e poi abbiamo dei sistemi che invece non sono pericolosi. Adesso vi faccio qualche domanda, vi interrogo un po', prima di passare la... Ascoltate, secondo voi il deepfake, cioè l'intelligenza artificiale usata per creare dei falsi, è vietato oppure no? Che ne dite? Lo vietiamo o no? Facciamo finta di essere l'Unione Europea. Lo vietiamo o no il deepfake? Sì. Dove viene usata oggi l'intelligenza artificiale come deepfake in maniera utile o positiva? Vi viene in mente qualche ambito? Prego. Nelle pubblicità? Avete presente il settore della moda, che a Milano ovviamente è molto... in periodo di pandemia usavano il virtual try-on, cioè l'intelligenza artificiale scansionava il vostro viso e il vostro corpo e voi potevate provarvi i vestiti, gli occhiali, i gioielli, semplicemente creando un vostro gemello digitale, perché era il periodo di pandemia dove non si poteva andare nei negozi a provare le cose. E quello è stato un uso dell'intelligenza artificiale, del deepfake, perché era un falso del vostro corpo, che è stato utilissimo. Ho una notizia da darvi. Il deepfake non è un'intelligenza artificiale che sarà vietata dall'Unione Europea. Viene messo unicamente un obbligo e l'obbligo è quello di trasparenza, ossia dovrà essere indicato il video che stai per guardare è un deepfake. Cioè non potrò ingannarvi con un deepfake, ma si potrà utilizzare. Questa è una delle intelligenze artificiali dove c'è stato un po' di dibattito. Seconda cosa che vi chiedo, CiaGPT secondo voi sarà vietata o sarà consentita come tipo di intelligenza artificiale? Sì, c'è un po' di dibattito. Sarà consentita, non è vista come un'intelligenza artificiale vietata, ma sapete che il garante italiano due anni fa l'ha bloccata CiaGPT per qualche mese, perché comunque deve conformarsi al regolamento che vi ho detto. Quindi, io vi ho dato un po' le brutte notizie, questo regolamento eliminerà certi tipi di intelligenza artificiale dall'Unione Europea per proteggervi. Adesso lascio la parola al poliziotto buono, diciamo, che è Pierluigi Perry, che vi spiegherà invece quanto l'intelligenza artificiale, anche se regolamentata, è utile per la nostra società. Vi ringrazio molto. Allora, buongiorno a tutti, grazie, grazie Giovanni, grazie al Lug di Pordenone per l'invito. Quello che diceva Giovanni è assolutamente vero, io sono fondamentalmente un ottimista, sono talmente ottimista che ieri sera abbiamo fatto una cena a base di salumi e di frico e questa mattina pretendeva alle 8 di essere perfettamente in forma per venire qui a questa giornata. Però ce l'abbiamo fatta, quindi come vedete l'ottimismo premia sempre. Io sono anche un tecno entusiasta, cioè mi piace provare le nuove tecnologie, mi piace sperimentare, credo che chi è appassionato di software libero deve avere un po' questo spirito da sperimentatore. Quindi, per esempio, chi di voi utilizza strumenti cosiddetti di intelligenza artificiale, poi ci sarà chi meglio di noi vi spiegherà che sotto il grande cappello dell'intelligenza artificiale ci sono tutta una serie di altre sottocategorie, quindi l'intelligenza artificiale vera e propria probabilmente ancora non esiste. Chi di voi ha utilizzato, per esempio, quegli strumenti che ormai ci sono all'interno dei telefonini, delle videocamere, per alterare le immagini, migliorarle, inserire altre persone? Ecco, qualcuno già lo sta usando. Chi di voi ha utilizzato ChatGPT? Ecco. Facendo finta che i vostri... No? Bene, 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 sono contento, sono contento, perché parliamo di roba viva, di roba concreta. Ok. No, no, poi ve le scambiate dopo le ricette su come usare ChatGPT. Facendo finta che i vostri professori non vi stiano guardando, chi di voi si è fatto scrivere o si è fatto aiutare, diciamo così, da un ChatGPT per fare qualcosa di scolastico? Eh, è chiaro, no? È chiaro, ma è chiaro. Ma va bene, ma va bene. Vedete? C'è tanto, 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 tanto di buono che possiamo ricavare da questa intelligenza artificiale. E c'è un motivo per cui l'Unione Europea definisce l'intelligenza artificiale una transformative technology. Noi utilizziamo raramente questa espressione nella storia, perché le tecnologie trasformative sono quelle tecnologie che cambiano il mondo e cambiano il modo con cui l'uomo si relaziona con il mondo. Sono le tipiche tecnologie delle rivoluzioni industriali, no? È arrivata la macchina a vapore e un'operazione che prima richiedeva 200 uomini e 400 cavalli improvvisamente viene svolta da un'unica macchina. Il computer è stata una tecnologia trasformativa, tant'è che Time, che come sapete nella prima uscita di ogni anno illustra quella che è la cosa più importante che è avvenuta e gli ha dedicato addirittura una copertina. Internet è stata una transformative technology. Il fatto di avere una quantità di conoscenza a nostra disposizione inarrivabile. E adesso l'intelligenza artificiale. Quando però c'è una tecnologia trasformativa c'è sempre paura. Sempre. c'è stata anche ai tempi della prima rivoluzione industriale. C'è stata ai tempi dell'invenzione del motore a scoppio. Perché? Perché temiamo di non poter assorbire questa innovazione. E quindi adesso ci sono tutti i timori che il professor Ziccardi vi descriveva prima. Il timore della perdita di posti di lavoro. Il timore della divisione che si verrà a creare tra chi sarà in grado di utilizzare queste tecnologie e chi non sarà in grado. Il timore è legato all'accesso perché noi siamo molto fortunati per l'area geografica il paese nel quale viviamo dove abbiamo una possibilità abbastanza comoda di accedere a questi servizi ma ci sono interi paesi dove l'accesso a questi strumenti è impedito. Però vi voglio dare la mia buona notizia. Da che mondo è mondo la tecnologia ha praticamente sempre migliorato la nostra vita è il nostro modo di relazionarci con il pianeta e con il mondo difficilmente l'ha peggiorato. Bisogna cambiare bisogna essere trasformativi dobbiamo essere trasformativi anche noi soprattutto voi che vi troverete a cavalcare questa trasformazione e quindi per dirvi le cose meravigliose che si possono fare con l'intelligenza artificiale che potrete fare voi che utilizzerete voi prendiamo proprio un case study classico qual è la cosa di cui tutti quanti noi prima o poi abbiamo bisogno che però costa tanto e costa tanto sia che ce la dia lo Stato sia che la paghiamo noi la salute la salute che resta come si può dire la cosa più importante ebbene le applicazioni che finora stiamo vedendo di intelligenza artificiale sulla salute e sui sistemi sanitari sono tra le più interessanti questa questa per esempio è una pubblicazione che è stata fatta dal Massachusetts Institute of Technology che come sapete è la più importante università tecnica del mondo che fa vedere come con l'intelligenza artificiale si riescono a fare delle analisi molto più rapide e molto più approfondite di quelle che sono le immagini cioè le immagini radiografiche le risonanze magnetiche che sono fondamentali per diagnosticare tutta una serie di malattie dove fino ad ora ci si basava su quella che era la bravura del tecnico radiologo che quindi magari con i suoi anni d'esperienza aveva appreso che quella piccola macchiolina che si trovava in quella immagine poteva significare un certo tipo di patologia e che cosa ci dà l'intelligenza artificiale? Ci dà la possibilità di concentrare l'esperienza e la conoscenza di tutti i tecnici radiologi che si offriranno di versare la loro esperienza in questi strumenti e lo riesce a fare continuativamente lo riesce a fare in maniera molto più veloce perché le macchine non hanno bisogno di ferie le macchine non fanno al momento proteste sindacali poi magari l'intelligenza artificiale imparerà anche questo le macchine non hanno bisogno di dormire e tutto questo ci consentirebbe di avere delle risposte molto più rapide molto più precise a nostre paure anche questa l'intelligenza artificiale scopre una nuova classe di potenziali antibiotici un tema molto presente attualmente nell'ambito sanitario è quello dell'antibiotico resistenza cioè cosa succederà quando magari uscirà fuori qualche virus rispetto ai quali non abbiamo degli antibiotici efficaci come faremo a rispondere a questa esigenza l'intelligenza artificiale potrebbe essere una risposta non so se avete sentito che il premio Nobel è stato assegnato proprio sia nella fisica sia nella chimica a dei ricercatori che hanno contribuito a creare i modelli che vengono utilizzati per questi strumenti di intelligenza artificiale che studiano nuove proteine da inserire all'interno degli antibiotici e dei percorsi di cura perché sono diciamo percorsi di ricerca che richiedono tantissima fatica tantissima potenza di calcolo ma l'intelligenza artificiale le reti neurali insomma tutte queste distinzioni che vi verranno spiegate oggi sono estremamente efficienti per arrivare a scoprire questo genere di ritrovati ci sono anche delle intelligenze artificiali che sono in grado di identificare in estremo anticipo rispetto all'occhio umano quelli che possono essere dei tumori ma l'intelligenza artificiale va anche oltre l'intelligenza artificiale diventa dialogica il famoso test di Turing dice che la caratteristica dell'intelligenza artificiale è quando un uomo parla con la macchina senza accorgersi che sta parlando con una macchina e questo lo stanno utilizzando anche nella cura di determinate patologie psichiatriche perché lì c'è molto bisogno di parlare c'è tanto bisogno di sentire l'altro e l'intelligenza artificiale è in grado di combinare oltre a una capacità d'ascolto infinita a un certo punto il professionista lo psichiatra lo psicologo dopo che ha sentito 10-15 pazienti in un giorno immagino che non ce la faccia più a sentire altri pazienti l'intelligenza artificiale è per definizione instancabile ma è in grado anche di fare tutta un'attività di analisi di riconoscimento di quelle che sono il parlato la voce un tremolio della voce che può significare tanto e quindi tantissime tantissimi vantaggi che si tramutano anche in un risparmio di costi per il sistema sanitario o comunque per chi vi sta offrendo un determinato servizio e questa secondo me è una delle occasioni migliori per cui non dobbiamo farci vincere dalla paura perché quello che purtroppo sta passando un po' come tema è il classico timore delle macchine cioè dobbiamo stare dobbiamo aver paura chissà cosa succederà si stava meglio prima eccetera eccetera no non è assolutamente vero dobbiamo stare attenti quello sì ma noi dobbiamo sempre stare attenti quando prendiamo la patente e guidiamo una delle transformative technology che è stata l'autovettura stiamo attenti perché altrimenti se andiamo troppo forte o se non rispettiamo il codice della strada finisce che ci facciamo male è la stessa identica cosa perdonatemi se se banalizzo ma alla fine le regole di prudenza sono quelle che ci consentono di utilizzare qualsiasi cosa senza farci troppo male altra applicazione interessante perché noi prima o poi vedremo l'intelligenza artificiale uscire dai nostri schermi noi finora siamo abituati a un'intelligenza artificiale relazionale ma dove ci relazioniamo tramite un'app tramite uno schermo tramite un collegamento web a un certo punto con la combinazione della robotica l'intelligenza artificiale entrerà nel nostro mondo fisico e questo avverrà prima o poi guardate che applicazione splendida che ha fatto tra l'altro uno dei punti di eccellenza della ricerca in Italia che è l'istituto delle tecnologie di Genova e che ha creato questo robot pensato proprio per assistere i bambini autistici ok con un livello di assistenza che non è diciamo va non va certamente a sostituire quello umano perché l'aspetto dell'umanizzazione nel percorso di cura continua a rimanere fondamentale ma che può sicuramente aiutare e qui c'è un altro esempio andiamo un po' più nell'intelligenza artificiale diciamo così praticano di consumo qui c'è un altro esempio bellissimo Giovanni lo conosce molto bene che è questo software che si chiama Bina ok cosa fa questo software questo software è in grado semplicemente prendendo un vostro selfie cioè quindi lo fate voi vi fate un selfie no di calcolare tutta una serie di parametri sanitari che sono la pressione il battito cardiaco la variabilità del battito cardiaco il livello di ossigenazione lo stress l'attività parasimpatica il quotiente di ricorrenza della respirazione l'emoglobina e il colesterolo anche questo forse preferire non sapere pensate un po' quando tutti quanti noi potremo farci degli screening così rapidi e che sta avendo anche delle certificazioni come dispositivo medico quindi vuol dire anche sufficientemente affidabili ci pensate la ricaduta e il risparmio su un sistema sanitario nazionale anche il miglioramento no della nostra qualità di vita che non dovremo necessariamente recarci magari presso un laboratorio se abitiamo in una zona non servita da laboratori raggiungere una città prendere un giorno diciamo di ferie dal lavoro e aspettare poi con trepidazione il risultato delle analisi abbiamo la possibilità di essere seguiti da un punto di vista della salute day by day grazie all'intelligenza artificiale quindi viviamola con ottimismo impariamola pariamo ad utilizzarla c'è un articolo fondamentale che a me a Giovanni è molto caro che è quello della competenza in temi di intelligenza artificiale proprio un articolo di questo regolamento di cui vi parlava Giovanni che invita tutti gli stati membri a creare dei percorsi formativi perché soprattutto i giovani vengano educati a conoscere utilizzare sapere usare bene l'intelligenza artificiale e la cosa meravigliosa per cui sono contento di parlarne in questo Linux day è che moltissimi dei progetti che riguardano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario proprio perché nascono in un ambiente universitario sono basati su codice aperto quindi è possibile guardarci dentro non abbiamo delle black box cosiddette il famoso blocco di cui vi parlava Giovanni di ChatGPT è stato determinato esattamente da questo il garante per la protezione dei dati personali ha detto ChatGPT fa delle cose meravigliose ma io non riesco a capire come le fa dove prende i suoi dati come fa a darvi quelle risposte che voi avete visto che vi dà queste sono cose che noi dobbiamo sapere perché altrimenti il rischio è che l'intelligenza artificiale ci passi delle informazioni che noi assumiamo ma che non sono corrette o che sono fatte apposta per spingerci verso una determinata direzione perché poi le macchine sono anche condizionanti e questa è una cosa che dobbiamo tenere presente ok quindi restate entusiasti stay angry stay foolish come diceva qualcuno molto più bravo di me come speaker e soprattutto rimanete competenti grazie grazie allora avete sentito il poliziotto buono e il poliziotto cattivo praticamente noi stamattina adesso noi ci trasferiamo in altre aule perché stamattina incontreremo tutti i ragazzi sappiate che io rimarrò qui tutto il pomeriggio mentre abbiamo dei talk stamattina io fino alle 5 alla chiusura mi trovate in giro quindi chi di voi volesse parlare con me del suo futuro se avete intenzione di venire a studiare a Milano se volete sapere un po' l'orientamento attuale della ricerca dell'università insomma qualsiasi dubbio abbiate mi trovate in giro oggi pomeriggio mi fermate mi domandate quello che volete e vi rispondo molto volentieri ok buona continuazione noi continuiamo il giro nelle altre aule a dopo